Io voglio dire che noi siamo un'economia depressa, noi abbiamo due Italie, una Italia più contagiata ma economicamente che è stata più forte, un'Italia con meno contagi ma economicamente fragilissima. Noi viviamo di servizi, ora o gli diamo una speranza a queste persone o arriverà qualcun altro a dare loro i soldi, a prendersi quello che hanno, perché purtroppo funziona così. Salve Presidente.